La persona, guardate, che non solo mi sta minacciando, ma ha torturato, sediziavo, imparato, bruciato, tagliuzzato, la persona o le persone ti amo in più. Quindi, io ho preparato la mia domanda, la mia domanda è, ma ci conosciamo? Quindi, quando avrò finito quella parola, conosciamo, io parto. E in più, mi sembra di vedere dietro Dave, le mie figlie. Lui ha stuprato, ucciso, bruciato, sediziato le mie figlie. Adesso le persone li amo in più. Quindi, con questa immagine qua, quando gli faccio la domanda, ci conosciamo? Le vedo, cioè, la prima le ho viste, quando il pericolo si avvicina, comincio a vedere le mie figlie dietro, comincio a ascoltare le loro voci, che dicono, papà, papà, salvaci, salvaci. E io, scatta, scatta. E io, scatta, scatta. E io, quindi, arrivo e dico, scusa, ma noi ci conosciamo. Boom! E arrivo, con tutta la forza, e lo colpisco. Poi sarà naturalmente una classica di colpi. Può essere una classica di colpi così, col palmo della mano, una classica di pugni a martello. Quello, quello che voglio. Ok? Quindi, ci conosciamo. Boom! Arrivo e lo colpisco. In questo caso ho fatto con la mano dietro la mano che ho caricato. Ma posso farlo benissimo con la mano davanti, in una situazione reale. Io direi, scusa, ma noi ci conosciamo. Boom! Poi arrivo. Quindi, prima con la mano davanti, che non essendo caricata non è potente, ma poi arrivo con le mani dietro.